Troppo pericoloso, correte verso una scuola No, sono curioso Sbloccare l'errore E' curioso Ma guardate Il bersaglio Fate piazza pulita dei bersagli Ah, c'è uno qua sotto e tutto Dai, porco dio, cos'era Oh, qua sotto Un nemico C'è un soldato nemico Non nasconderti, fra Che ti becco dove sei L'altro è sotto A sinistra Sotto dove? Sotto il piano terra Dove sono io praticamente Però di qua Ecco è qua sopra Bravo Ale Ehm, arrivano gli altri E' qua sopra Un nemico in arrivo nella Lancio di equipaggiamento alle altre Lancio di equipaggiamento alle altre Per quello fa fuori a destra Sto lasciando lì dentro Aspettiamo proprio il fine Aspettiamo proprio il fine Ad arbor Tene uno qua sotto Guardalo l'ho visto Oh ma verso giù Com'è possibile Com'è possibile? Com'è? Un nemico in arrivo nell'area L'altro è qua L'altro è qua eh Oh ma bolo viene a restart Sopra o sotto C'è una cassa di scorte Andati a prenderla Ma che cazzo è? Mancato poco Solo un grappio Tutto a posto Avete corazze che su se Si si va E' sopra 20 metri o sopra o sotto Sta arrivando un nemico L'altro è sopra E l'altro è sotto la macchina Dove c'è la macchina Il sub qua fuori E' sul tetto E' un grande Oe L'altro è sul tetto Ma assurdo C'è un'altra C'è ma è già la seconda volta Ma dio cane ma sono scemi Ma io non so che problemi hanno Dottore salve L'ho chiamata prima Anche ieri Ma era anche ieri Coglione Si ma era lo stesso di ieri Ma parco dio E dai Basta prendere tempo All'area bersaglio Uè dottore Lasciami qualcosa Mauro che contro un buon Dove qualcosa C'è un'altra maschera a chi serve Un nemico ti da la caccia Sopravvive Ce l'ho Sopravvive Stanno con l'UAB Va vai vai Si si ma che coglione! adesso mi butto subito. ma non si è più più attendibile la cosa la sottotiro. marco dio che liscio! tigari tigari eh! qua? ma perchè sei scemo? io mi chiedo il domando. perchè sei scemo? sta arrivando un nemico! attenzione in alto! molotta uomo di me hanno perso le tue tratte sei al sicuro di tua mamma, tua madre quella ma sorella coglione attacco a grappolo alleato l'altro qua dietro. si è buttato sotto eh! faccio un altro l'altro qua l'altro qua è stato sceso contatto! stare stare il mio amico ti da la caccia! sopravvivi! caprile 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 ho voluto una cassa di croce dove cazzo andiamo Mauro? sono in due qua sul tetto forza il sottopriso tra poco campierato pezzo di merda ma c'è giusto che il cazzo si avvicina ho la bazzonna sicura per voi qua dietro eh? pure erano qua nello stantino passi in arrivo traccato e dietro di me dietro di me Mauro dietro di me mi serve assistenza medica l'altro 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 arriva il gas Marco la nuova azienda sicura di qua di qua? oh giuro va? si raggiunge lancio una granata via attacco in corso su che merda ottimo effetto era qua fuori appena uscito è una volta che non hai rotto il cazzo devi sparare tranquillo ho cercato la rimonta alla fine mi chiamavano più il posto dio vabbè ragazzo vola vola io stavo facendo un volo in giro adesso sta con lei